Possono essere molti i motivi che spingono un imprenditore all'apertura di una SRL, una società a responsabilità limitata, un imprenditore o più imprenditori. Tra questi motivi possiamo pensare ad esempio il fatto di aver superato i limiti e la capienza del regime forfettario e quindi l'intenzione di affrontare l'evoluzione del nostro business con uno strumento giuridico più complesso che mi consenta anche più opportunità sia dal punto di vista degli investimenti che dal punto di vista del risparmio fiscale piuttosto che dal punto di vista delle responsabilità. Sono quindi diversi i fattori che spingono l'imprenditore o gli imprenditori ad avvicinarsi allo strumento della società a responsabilità limitata. La società a responsabilità limitata però ha ovviamente accanto a dei vantaggi degli svantaggi connessi alla complessità dello strumento che appunto è più complesso. In quanto società rientra nella discipline che sono indicate anche nel codice civile relative appunto all'inserimento dell'imprenditore commerciale in una determinata sezione. Diciamo così le società sono di vari tipi ci sono le società di persone e le società di capitali. La SRL è una società di capitali. La differenza molto semplice per intenderci e capire è che nella società di capitali l'imprenditore è responsabile solo per il patrimonio che ha investito, per i soldi, per il denaro, per quello che ha versato, può essere anche non solo denaro come vedremo potranno essere anche immobili piuttosto che crediti. È responsabile solo per quello che ha messo dentro la società, ok? Mentre si parla di autonomia patrimoniale perfetta infatti. Mentre nella ditta individuale piuttosto che nella società in nome collettivo e nella SAS per quanto riguarda i soci accomandatari dove invece in queste situazioni chi risponde è l'imprenditore anche con il suo patrimonio personale. Quindi se noi partiamo proprio dalla norme che disciplina la società di responsabilità limitata si vede che per le obbligazioni sociali, dice il codice civile, risponde soltanto alla società con il suo patrimonio. In questo video noi faremo un tutorial con una guida proprio su tutto quello che devi fare e che devi anche sapere nel momento in cui decidi di costituire una SRL. E lo faremo cercando di capire che cos'è una società, come si costituisce, quindi la stipula dell'atto costitutivo, la società unipersonale, la società semplificata, l'SRL semplificata, come funzionano i conferimenti, quindi come io doto di fa bisogno, come faccio a mettere i soldi nella società, che cosa sono le quote, come funziona la sua contabilità e vedremo anche cenni sull'ottimizzazione fiscale perché nel momento in cui io apro una società di natura complessa, se non metto in piedi anche delle strategie di natura fiscale, finisce che il 70% dei miei profitti se lo prende lo Stato. Quindi per evitare questo, che è una cosa assolutamente normale e assolutamente legale fare pianificazione fiscale, dovrò poi optare anche per altre cose. Siamo pronti? Quindi per iniziare io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato, dottore commercialista e founder di MyAccounting.it, che è il mio studio di commercialista online. Io auspico che questo video ti sia utile e ti chiedo di mettere un like, magari lasciare un commento, condividerlo con gli amici e perché no, anche iscriverti al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornato e conoscere sempre più queste tematiche del diritto tributario, commerciale e del diritto del suo genere. Allora, partiamo quindi da che cos'è, ok? La società responsabilità limitata è una società di capitali, ok? Lucrativa, quindi il suo fine è quello di produrre un profitto da distribuire ai soci e ha, si dice, personalità giuridica. Questo è un punto fondamentale perché il fatto di avere personalità la società giuridica è quello che consente di separare il patrimonio mio personale da quello della società. Io sono una persona fisica, la mia società è una persona giuridica, ossia una persona costruita dal diritto. Un insieme di fogli, un atto pubblico messi dentro un archivio notarile, sono di fatto una persona giuridica, quindi quella persona può essere titolare di contratti, di debiti, di crediti e così via. E quindi da qui la separazione fra la mia sfera patrimoniale, la mia casa, la mia macchina, il mio bene, la mia tv e la società, la macchina della società, la casa della società, l'azienda della società, i suoi contratti, i suoi crediti, i suoi debiti. Quindi autonomia patrimoniale perfetta. I soci della SRL partecipano con quote, quote espresse in maniera percentuale. Ad esempio due soci al 50%, tre soci al 33% e così via. Le partecipazioni possono quindi avere diversi valori e non sono offribili al pubblico. Mentre nella società per azioni noi possiamo offrire al pubblico le azioni e sono tipo io detengo il 3% diviso in azioni, ad esempio, quindi X numero di azioni, nell'SRL la quota è unica. Io detengo una quota pari al 20%, ok? Poi posso cedere parte delle quote con un procedimento diverso, un pochino più complesso, comunque molto più semplice di una società di persone, ad altre persone qualora queste vogliano investire oppure entrare nella mia società, ok? Andiamo a vedere come si costituisce un SRL. Che sia SRL che sia SRLS o che sia anche SRL in forma di startup innovativa, la stipula dell'atto costitutivo, quindi la sua nascita, deve essere fatta, mettiamolo in grassetto, esclusivamente con l'atto pubblico, quindi con l'intervento del notaio. Quindi quando leggete costituisce un SRL online, non semplice, ci vuole un notaio, ok? Poi se il notaio online si sono organizzati va benissimo, però per fare un SRL in tutte le sue sfaccettature ci vuole l'atto pubblico e quindi il notaio, ok? Altrimenti, dice la norma, è appena di nullità, cioè non esiste l'SRL. Quindi voi costituite una società senza il notaio, scrivete SRL, la mettete al registro delle imprese, ma questa non esiste e quindi sostanzialmente poi non è che non funziona, perché la società funziona lo stesso, però non hai il beneficio della personalità giuridica e quindi non hai l'autonomia patrimoniale e quindi rispondi col tuo patrimonio, le cose vanno fatte bene. Quindi si deve fare l'atto costitutivo dal notaio, ok? Questa società può durare nel momento in cui noi facciamo l'atto costitutivo e decidiamo una serie di cose, no? Diciamo, ora non voglio fare la lista di fare il notaio, però ipotizziamo questo, noi facciamo l'atto costitutivo, cerchiamo di essere semplici e pratici. Nell'atto costitutivo noi ci metteremo il nome dell'azienda che si chiama ragione sociale, sceglieremo un nome, poi diremo chi sono i soci, diremo che percentuale hanno i soci, diremo dove ha sede, sede noi si dice solamente il comune, ok? Andiamo a scrivere solamente il comune, perché nel momento in cui si mette la via, il numero, quello lo mettiamo solamente ai fini di registro delle imprese, però nella sede, la sede dobbiamo identificare un comune, così che se noi cambiamo ufficio, spostiamo l'azienda, basta una semplice comunicazione, mentre se modifichiamo il comune è una modifica dell'atto costitutivo e quindi necessariamente si deve ritornare dal notaio, per quello che si mette il comune, ok? Quindi quando voi andate dal notaio direte la mia srl ha sede nel comune di Vicenza ai soli fini di registro delle imprese in via tal di tali, però comune di Vicenza, quindi nome, soci, percentuale, sede e poi andremo a mettere l'oggetto sociale, l'oggetto sociale che andrà a descrivere tutte quelle attività che la società svolgerà o che potenzialmente potrebbe svolgere, ok? Accanto all'atto costitutivo che determina la nascita della società, questi sono i punti fondamentali, ok? Poi dopo ci sono anche altri punti, ma quello lasciamo aperto. Accanto all'atto costitutivo che appunto regola la sua nascita abbiamo lo statuto, che è parte integrante, lo statuto, più atto costitutivo sono parte integrante nella sua fase di costituzione. Lo statuto invece va a delineare quelle che sono le norme di funzionamento, le regole che decidono come si costituisce l'assemblea dei soci, come funziona l'amministrazione, ci sono tanti aspetti da vedere e nei miei percorsi formativi, ti lascio il link in descrizione se vuoi entrare, per conoscerli e scoprire anche le opportunità di risparmio fiscale, dico e vado a indicare quali sono gli elementi che deve contenere lo statuto, quali sono, perché ci sono anche degli elementi facoltativi, però è importante mettere, cosa deve contenere l'oggetto sociale, eccetera, eccetera, per fare in modo di ampliare i perimetri delle spese, così da avere più maggiore opportunità di risparmio fiscale. Comunque, per procedere alla costituzione di una società bisogna sottoscrivere il capitale sociale e ora vi dico che cosa significa, bisogna rispettare le norme che dicono se conferisci il denaro si fa così, se conferisci un immobile si fa così, se conferisci un credito si fa così, se conferisci un'azienda, perché magari stai facendo un passaggio da ditta individuale a SRL e quindi tu fai un conferimento dell'azienda in una nuova SRL, devi fare in una certa maniera, devono rispettare queste norme e se l'attività è soggetta ad autorizzazioni devi avere le autorizzazioni preventive. Questo riguarda ad esempio le banche e le assicurazioni. Una volta che noi abbiamo preparato tutte queste cose, abbiamo dato tutte le informazioni al nostro notaio di fiducia, magari generalmente con i miei clienti io preparo queste informazioni, scrivo io direttamente al notaio tutte queste informazioni, quindi assisto in questa pratica. In questo momento io mi presenterò dal notaio, poi ora vi dico anche tutti gli altri elementi, non abbiate furia. Mi presenterò dal notaio, il notaio leggerà l'atto costitutivo e lo statuto così come l'abbiamo predisposto insieme e andremo a firmare la presenza dei soci, a versare il capitale sociale, ora vi spiego come si fa, e una volta fatto questo il notaio avrà un lasso di tempo, 20 giorni, nel quale dovrà depositare tutto al registro delle imprese. Quando il registro delle imprese ci dà l'ok con la consegna della visura di evasione, si chiama, quindi un certificato che attesta che voi avete iscritto questa società al registro delle imprese, in quel momento la personalità giuridica è fatta. Quindi è da quel momento in poi che il socio risponde solamente per quanto fatto, per quanto avversato, ipotizziamo che io costituisco una società ora, alle 10 di mattina, costituisco una società alle 11, apro subito la partita IVA perché ci vuole un istante e lo fa il commercialista, basta che gli manda la faccia dell'atto costitutivo e si apre la partita IVA, perché sono due pratiche diverse, ma vi sto facendo un caso limite. Io oggi a mezzogiorno compro un immobile e non ho i soldi, ok? Compro una macchina o un qualsiasi cosa e non ho i soldi. La società non è ancora stata iscritta al registro delle imprese? Io sono responsabile. Perché l'autonomia patrimoniale perfetta si acquisisce nel momento in cui la società è iscritta al registro delle imprese, in quel momento no. E infatti che cosa diciamo noi? Tu hai costituito la società, aspettiamo la visura di evasione e poi parti. Questo è quello che si dice. Generalmente il notaio non ci mette 20 giorni, fa la comunicazione subito, generalmente in una settimana la società è pronta. Quindi nel momento in cui poi arriva la visura di evasione, andiamo in banca con la visura e possiamo aprire il conto corrente. A questo punto io prima vi ho detto che dobbiamo fare conferimenti in denaro, dobbiamo dotare la società di cose. La società, la società responsabilità limitata, ha un capitale sociale minimo di 10.000 euro, ok? Però cerchiamo di fare chiarezza su questo punto. Poi esiste anche per completezza, la società a capitale ridotto e la società a responsabilità limitata semplificata. Però partiamo dalla SRL nella sua natura ordinaria. Non andrebbe neanche scritto, ma lo scrivo. Quindi SRL ordinaria. Il capitale sociale deve essere 10.000 euro. Questo capitale sociale deve essere sottoscritto dai soci, quindi i soci si devono impegnare a mettere 10.000 euro in proporzione alle sue quote. Se il capitale sociale è sottoscritto in denaro, è obbligatorio versare almeno il 25%, ok? Quindi ipotizziamo che sono due soci, facciamo un'ipotesi, due soci al 50% e decidono di non versare tutto il capitale, ma solamente il 25%. Quindi tizio farà un assegno circolare. Vai in banca, vai alla tua banca, fai un assegno circolare che si chiama star str... no, brutto, non mi piace. Questa SRL ordinaria la chiamiamo... come la chiamiamo questa SRL ordinaria? La chiamiamo Ego. Ego SRL, perché noi siamo tutti pieni di Ego, ok? La chiamiamo Ego SRL. Con due soci al 50%. Tizio e Caio, ok? Tizio 50%, Caio 50%. Ora, nel momento in cui Tizio e Caio sottoscrivono il capitale sociale, si impegnano ciascuno a versare nella società 5.000 euro. Però non possono decidere o di versarlo subito, oppure di versarne solamente il 25%. Perché la legge ci dice che nel caso di conferimento in denaro è obbligatorio versare almeno il 25%. Il resto lo potete versare anche dopo, ma lo dovrete versare, ok? Perché voi avete sottoscritto, quindi avete firmato, di mettere dentro la società 10.000 euro in totale. Allora, 25%. Quindi Tizio decide di versare 1.250 e Caio decide di versare 1.250, riservandosi di versare il successivo in un secondo momento. Come si fa materialmente? Tizio e Caio si recano alla loro banca, ok? Vanno alla banca mia, chiamiamola, banca mia, e fanno un assegno circolare intestato a EgoSRL, ok? E uno dice, ma la società non esiste ancora. Come faccio a farlo? Lo puoi fare, perché nel momento in cui tu vai a fare un assegno circolare non ti chiedono se quella persona esiste e basta, ti chiedono solamente il nome. Io posso anche andare in banca oggi e dire, mi fai un assegno circolare a 3.000 euro intestato a Pinco Pallino Maria? E loro me lo fanno. Poi se Pinco Pallino Maria non esiste, non potrà versare questo assegno, ma è un paradosso, no? Quindi io vado in banca, faccio un assegno circolare di 1.250 o 5.000, ok? Se lo voglio versare direttamente tutto, il mio consiglio è quello di versarlo subito tutto, perché si risparmiano spese amministrative per comunicare successivamente di averlo versato, ok? Vado in banca, dico, mi fai per cortesia un assegno circolare di 5.000 o 1.250 intestato a EgoSRL? Non ti fanno domande, te lo fanno, te lo dai. Tu questo assegno te lo tieni in mano, ok? Quando sarai dal notaio, il notaio dirà, benissimo, il capitale sociale che avete deciso è 10.000? Sì, l'abbiamo già deciso prima, perché uno potrebbe anche voler fare il capitale sociale di 100.000, eh? Cioè il capitale sociale minimo è 10.000, ma uno può fare anche molto di più, ok? Perché sono le dotazioni che tu dai alla società, non è un costo questo, eh? Ora ve lo spiego. Quindi, che cosa succede? Io a questo punto ho fatto il capitale sociale, ho fatto l'assegno, vado dal notaio, do l'assegno al notaio, ma non è che il notaio se lo tiene questo assegno, il notaio annota sull'atto costitutivo il numero dell'assegno e dà atto che quell'assegno esiste, è vero, c'è, ok? Poi il notaio, questo assegno, una volta che se l'è fotocopiato e ha registrato il numero, ve lo ridà, ok? Perché, che cosa ho detto prima? Una settimana all'incirca arriva la visura, andate in banca, aprite il conto corrente, che ci fate con l'assegno che avete tenuto in tasca la settimana, lo versate, lo date all'amministratore designato della società, che potete essere tutte e due, uno solo, lo date all'amministratore e l'amministratore lo versa in banca, perché il capitale sociale è la dotazione iniziale che voi date all'azienda, non è un costo, sono soldi vostri, sono i soldi vostri che non diventano più vostri, diventano dell'azienda, è il vostro capitale di rischio, ok? C'è un caso però nel quale non si può usare il 25%, è il caso di SRL unipersonale. Nel caso in cui l'SRL sia unipersonale, quindi un socio solo, quindi tizio ha il 100% delle quote, si può fare, ok? Quindi si va comunque dal notaio, si stipula una società dove c'è una persona sola, io ho una società dove sono da solo, in questo caso il capitale sociale deve essere integralmente non sottoscritto, ma anche versato. Questo è sottoscrivere, questo è versare, ok? Sottoscrivo quando dico io mi impegno a versare X di capitale sociale, ti do intanto il 25%, poi ti darò il resto quando me lo chiederà l'amministrazione. Invece, quando faccio un SRL unipersonale, sottoscrivo 10.000, ma verso 10.000, il mio assegno circolare dovrà essere di 10.000. Quindi io preparo per il notaio, per il notaio vado a preparare il nome, dico chi sono i soci, la percentuale che hanno, dove è a sede, questo è l'oggetto sociale, quanto sarà l'ammontare del capitale sociale, ok? Andiamo a aggiungere l'ammontare del capitale sociale, che può essere minimo 10.000 euro, ma può essere anche di più, e sulla base di quello do tutte le informazioni, vado in banca, la mattina stessa o il giorno prima, non importa, poi vado dal notaio, do l'assegno, firmo, e una volta che ho firmato, contatto il mio commercialista se non è accanto a te e gli dico ho costituito, il commercialista ti apre la partita IVA, tu ti compri una PEC, perché questi sono dei implementi obbligatori, ok? E siamo quasi pronti per fare la comunicazione, quindi facciamo un piccolo recap, notaio per atto costitutivo e statuto, che generalmente prepariamo prima, ok? Commercialista, affidatevi a un commercialista e non chissà chi, affidatevi a un commercialista, ragazzi, non affidatevi a un tizio che fa la contabilità del mio cugino, commercialista, iscritto all'albo, lo verificate, albo dei commercialisti e non persone che fanno cose, ok? Albo dei commercialisti, scrivete il nome e con me, ma questo è un commercialista, perché a volte purtroppo c'è anche questo, ragazzi, in Italia tutti fanno tutti, si fa il 7,30 dal fruttivendolo, con tutto rispetto per i fruttivendoli che io adoro, però non dovrebbero fare i 7,30. Allora, notaio per atto costitutivo e statuto, commercialista per partita IVA, quindi lo stesso giorno, poi, anzi, facciamo così, banca per assegno circolare. I passaggi, no? Notaio per atto costitutivo e statuto, commercialista per partita IVA, ok? A questo punto abbiamo tutto, poi, una volta con partita IVA, ci vuole qualche ora, il commercialista quando fa la domanda, dopo qualche ora l'agenzia delle entrate ti dà una ricevuta con il numero di partita IVA, col quale si sceglierà anche il codice Ateco, quindi quale sarà il tipo di attività che si va a svolgere, insomma un po' di cose. Con partita IVA l'imprenditore acquista la PEC, ok? Vedete? PEC e partita IVA si comunicano al notaio, il notaio invia al registro imprese. A questo punto, questi sono i passaggi, avviene quasi tutto in un giorno questa cosa, ok? A questo punto arriverà la visura di evasione, a questo punto arriverà la visura di evasione, una volta che è arrivata la visura di evasione si va in banca per apertura del conto corrente, ok? E si versano gli assegni, ok? Questo è tutto il passaggio. Banca per apertura del conto corrente, quale banca scegliere? Vanno bene le banche online? Allora a mio avviso le banche online vanno bene finché siamo nei regimi forfettari o con attività molto semplici. Nell'SRL va bene avere un conto corrente online, tipo di quelli esteri, non faccio nomi, va bene, però ci vuole anche un conto corrente tradizionale, perché comunque tanti adempimenti con l'Agenzia delle Entrate o con l'Inps, l'abbiamo visto nell'ambito Covid, non sono supportati o comunque vanno a rilento con le banche non stabilite in Italia, ok? Quanto meno come base. Quindi una banca tradizionale con sportello è importante per l'SRL, anche per avere il blocchetto degli assegni che spesso le banche online non hanno. Quindi se volete avere il conto corrente online sappiate che dovrà essere magari quel conto in più per appoggiare determinate cose. Una cosa che non ho detto, nel momento in cui facciamo l'atto costitutivo dovremmo decidere anche chi è l'amministratore della società, ok? Quindi vado ad aggiungere un altro pezzo qui. Chi fa l'amministratore? L'amministratore potrà essere o un amministratore unico o uno più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, quindi siamo magari in due, siamo tutti e due amministratori, oppure un consiglio di amministrazione dove c'è un presidente. L'amministratore, che sia amministratore unico o presidente del consiglio di amministratore, è quello che ha la rappresentanza della società, quindi quello che firma i contratti, quello che è abilitato a impegnare la società per determinate azioni o cose. Questo è tutto il procedimento, cioè il procedimento è questo qui, ripetiamolo, costituiamo tutto. Allora, commercialista per preparare atto e statuto. Non lo prepara il notario, il notario ti dà una bozza, è l'imprenditore col suo commercialista. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto passaggi, una decina di passaggi. Quindi commercialista, vediamo in questo punto, vediamo in questo punto quali sono i passaggi che ti portano a fare una SRL. Punto numero uno, andiamo dal commercialista, possibilmente è scritto all'ordine, per preparare l'atto costitutivo e lo statuto. Poi andiamo in banca per fare l'assegni circolari, per il capitale sociale, andiamo dal notaio a firmare l'atto costitutivo, sottoscrivere il capitale, il commercialista aprirà la partita IVA, l'imprenditore aprirà la PEC, PEC e partita IVA vengono consegnate al notaio, il quale registrerà la società a registro delle imprese, dopo qualche giorno arriverà una visura di evasione che è un certificato di iscrizione a registro delle imprese. Con questo ci possiamo recare in banca, aprire il conto corrente e versare il capitale sociale. Siamo pronti per partire con la nostra azienda, con la nostra SRL. Quindi ripercorriamo tutti i passi e ve li ho scritti tutti qua. L'SRL potrà, come ho detto, anche essere unipersonale, ma potrà essere anche un altro tipo di SRL, e l'SRL semplificata. Qual è la differenza fra SRL semplificata e SRL ordinaria? È che l'SRL semplificata non ha tutto lo statuto e l'atto costitutivo creato con il proprio consulente, ma sostanzialmente si usa un modello standard che è fornito dal ministero e quindi è una società che ha molti meno possibilità sul suo funzionamento, ha un po' di limiti. Quanto ai costi, l'unico costo che non si paga è il notaio. Infatti il notaio non va tanto giù questa cosa e quindi a volte prendere un appuntamento per un'SRL semplificata può essere anche più complesso perché il notaio non è così consono a lavorare gratis e sinceramente lo capisco. Allora, quindi l'SRL semplificata sostanzialmente per farla si comunica l'oggetto sociale, la forma di amministrazione che potrà essere solo o amministratore unico CDA, si dà e poi basta, non c'è praticamente niente, è molto semplice, non si pagano gli anni e non natalini, le spese saranno intorno ai 500 euro perché comunque la Camera di Commercio si paga lo stesso. Allora, abbiamo parlato fin qui dei conferimenti in natura e scusa in denaro. Se noi invece volessimo conferire dei beni in natura, tipo ad esempio un immobile oppure un'azienda, dobbiamo seguire dei procedimenti diversi. Per conferire un'azienda ci vuole una perizia di un revisore, una perizia che stimi questo valore. Se noi vogliamo conferire dei crediti, lo stesso. Se vogliamo conferire degli immobili, ci vuole delle relazioni, ci vogliono dei tecnici che dicono che i valori sono quelli lì. Perché ci vogliono le perizie nelle società di capitale e non ci vogliono nelle società di persone? Perché il valore che tu dai al capitale deve essere attestato da qualcuno che dice che quel valore è giusto. Per quale motivo? Perché c'è l'autonomia patrimoniale perfetta. Altrimenti io potrei dire, guarda, ti do questa azienda vale 200.000 e io metto 200.000 di capitale. Poi questa azienda non vale, c'è la responsabilità limitata e io frego tutti. E non si può fare. Allora ci vuole un revisore che dice, sì, questa azienda vale 200.000. Allora io posso mettere 200.000 di capitale. Perché c'è un revisore, un professionista iscritto da un albo, assicurato per quello che dice, che attesta quel valore. E ovviamente le perizie sull'immobile, le perizie sulle aziende hanno un valore. Però è importante saperlo questa cosa qua. Delle quote abbiamo parlato. Andiamo a concludere con la contabilità. Le società di capitali hanno tutte la contabilità ordinaria. Quindi non solo si registrano le fatture di incasso e le fatture di spesa, ma si registrano anche i movimenti di banca e di cassa. Quindi dovremo andare a indicare che cosa ho comprato, come l'ho pagato, da quale banca, se ho usato il post, eccetera, eccetera. Questo è il compito che fa il commercialista. Ai fini della predisposizione di un bilancio. Un bilancio è un documento, ok, che viene ogni anno presentato dove si va a fotografare l'azienda in un anno di riferimento. Dal suo punto patrimoniale, quindi quali sono le sue attività, quali sono i suoi beni, quali sono i suoi debiti, quali sono i suoi possedimenti, quali sono le sue disponibilità in banca, tutte queste attività. E poi accanto allo stato patrimoniale c'è un conto economico. C'è un conto economico che dice invece tutte le entrate e le uscite in quell'anno. Quindi qual è il risultato dell'azienda? Quanto ha incassato, quanto ha speso, quanto ha avuto di profitto. Su questo ci si pagano le imposte. Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, terzo documento del bilancio che va a specificare alcune voci e dire gli ammortamenti e quei beni si riferiscono a quelle cose, quei crediti fanno parte di quella roba e una serie di informazioni. Poi c'è anche un rendiconto finanziario che va a analizzare i flussi di cassa. Però tutti questi documenti non è che li dovete fare voi, li fa il consulente e non è che si devono fare sempre tutti e non si devono fare sempre tutti nella loro complessità. Dipende dai volumi e dalla grandezza dell'azienda. Più l'azienda è grande, più questi documenti saranno complessi. Più l'azienda è piccola, più questi documenti saranno molto semplici e guidati. Dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale e concludo, è importante sapere che la SRL è soggetta all'imposizione fiscale del circa il 28-30% sui profitti. E queste imposte sono l'IRES, l'imposta sul reddito della società, e l'IRAP, l'imposta sul reddito delle attività produttive. Il fatto è questo, che una volta che ho determinato un profitto, ok, ipotizziamo che io ho fatto 300.000 di fatture di vendita, 100 di spese. Io ho 200.000 euro di utile. Se io questi 200.000 euro di utile lo lascio lì, ok, io ci pago circa il 30% di imposte. Però i soldi non sono miei, i soldi sono della società. Se io li prendo per me, come compenso per le mie attività amministrativa o come utili, come risultato dell'esercizio, io ci pago di nuovo altre imposte. E quindi la somma di una e l'altra arriva non lontano dal 60-65% sul profitto. Per evitare questo è importante fare dei meccanismi di pianificazione fiscale, finalizzati a diminuire l'utile, a battere l'utile e a prendere delle risorse della società prima di determinare i risultati e quindi per alleggere il carico fiscale. Di tutto questo ne parlo in un mio percorso che si chiama Codice Micheli e ti lascio tutto in descrizione al video. Già indicando tre dati che sono sostanzialmente il fatturato e l'utile, riesco a dirti quanto possiamo arrivare a risparmiare di imposte in confronto a non fare niente. Quindi è gratuito questo test, ti invito a contattare il mio consulente, trovi tutto in descrizione al video. Per questo video è tutto, io spero che vi sia stato molto utile e di impatto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciate un like, un commento, seguitemi anche sui social, mi trovate su Instagram e Facebook e nient'altro da dire, buona SRL a tutti!